Vinta da, è stato un figlio e un figlio, non era bello ma tanto se aveva mille donne se... Atrani, borgo dei musicisti, la suggestiva cittadina della costiera amalfitana, guidata dal sindaco Michele Siravo. In sinergia con il consigliere delegato di eventi e spettacolo Giuseppe Pisacane e delle associazioni APS Guest Italy e Diabolos in Musica, che si candida ad ospitare i nuovi talenti della musica e del canto. L'iniziativa è stata annunciata dal sindaco durante il concerto d'omaggio ad Agno Morrigone e alla prima edizione del concorso, che si è svolta con successo il venerdì 26 luglio nella gremita piazza Umberto I. Entusiasti giovani premiati che si sono esibiti, eseguendo celebre colonne sonore composte da Morricone per tanti film di successo internazionale. La giuria tecnica composta dal direttore artistico Colomba Capriglione, il maestro Federico Mileo, con la partecipazione anche del maestro Giancarlo Amorelli, che ha premiato i finalisti che hanno eseguito con successo il repertorio. Con l'esecuzione di alcune musiche tra cui C'era una volta il West, Nuo Cinema Paradiso, Totò e Alfredo, Deborah Thiem, C'era una volta in America, The Mission, Malena, Playing in Love e molto altro ancora. Per il consigliere delegato Giuseppe Pisacane è fondamentale valorizzare gli artisti che, con sacrificio e competenze, garantiscono qualità allo spettacolo in Italia e nel mondo. Per il consigliere delegato Giuseppe Pisacane è fondamentale valorizzare gli artisti che, con sacrificio e competenze, garantiscono qualità allo spettacolo in Italia e nel mondo.